Benvenuti! Conosci un segreto curioso di qualcuno? Ti ricordi una bugia divertente di un amico, di un parente o di un conoscente? Da maggio vai in onda su Rai1, Segreti e bugie, il nuovo programma del sabato sera. Mantieni il segreto e telefona a Segreti e bugie 06-320-4943 oppure scrivi a Segreti e bugie Viale Mazzini 14 00195 Roma. E torniamo ai nostri programmi, tra poco potremo seguire le notizie del TG1 Notte e poi sottovoce. Gigi Marzullo incontrerà Rebecca Rehm, un fulmine di ragazza. Buon proseguimento, buonanotte. Il primo idromassaggio con ultrasuoni è Deucoidrosonic. A volte certe piccole imperfezioni sono affascinanti quando riguardano gli esseri umani. Audi A4, un altro passo avanti. Cosa c'è dietro un sorriso così bianco? L'abitudine a volersi bene. A prendersi cura di sé. Ma prima di tutto c'è Menta Dente Bicarbonato che ridona ai denti il loro bianco naturale. I risultati si vedono già dopo quattro settimane. Menta Dente Bicarbonato per denti protetti e visibilmente più bianchi. Mio papà fa il fornaio e ieri a mamma gli ho chiesto... Assaggia i nuovi cracker sfoglia di grano. Molino bianco. Mmm, croccanti, friabili, mi piacciono di più. E poi ho detto... Questi sono proprio diversi. E lo senti dalle sfoglie. Dal grano più dorato le sfoglie più sottili e leggere. Ecco la nuova ricetta dei cracker sfoglia di grano. Mmm, più buoni con queste sfoglie. Nuovi sfoglia di grano mulino bianco. Chi mangia sano trova la natura. Creare un'auto di dimensioni compatte con un interno tanto flessibile da passare da due a sette posti in quindici secondi sembrava una missione impossibile. O quasi. Opel Zafira. In anteprima sabato e domenica dai concessionari Opel.